Walt Disney compie 100 anni e per celebrare l'occasione è uscito un fantastico cortometraggio su Disney Plus Once Upon a Studio. 543 personaggi di cui l'80% in animazione tradizionale e il restante 20% in computer grafica. Ma la vera candelina sulla torta è stato risentire il genio con la voce di Robbie Williams e subito la community si è scatenata. Si tratta di intelligenza artificiale, come era accaduto con la sigla di Secret Invasion. Non è così, perché dalla Disney hanno fatto sapere che in realtà il regista ha utilizzato degli outtake che erano stati scartati da Aladdin e quindi quella che sentite sul genio è veramente la voce di Robbie Williams che ancora oggi ci manca tantissimo.